16929, Vicenzo, cambio Giuseppe, lo sentivo, un attimo solo, Giuseppe che c'era pure un altro amico che si è spostato di canale Buongiorno per l'altro amico, non ho capito chi era, e c'è un fratello Peppe che stava bastonando qua Avanti per l'amico, è salita Monteforte, provincia di Avellino, sud Italia, guida blu e smuta, capo Ciao fratello Mimmo, radio spenderò il cielo, gli riporto io i saluti a Peppe, a cui va scendere le ore Peppe, vi saluto a Mimmo, spenderò il cielo a Fiorensuola, Mimmo, 7-3 ben ascoltato dopo una marea di tempo Avvicinamento, provincia di Avellino, direzione Forza, Petro Parco Carico, Mimmo, 6-3 ben ascoltato Ascolti la terra che sta tremando, guida blu ti sta salutando, cambio Oh bene, ci sta, io ci sono, dai, contraccambi e saluti per Mimmo, spenderò oggi, non se lo senti ancora Ciao Vincenzo, amore in cuore, io ti debbo salutare che devo scendere a prendere la bulla Buona quest, grighe di giornata, a piacere immenso mi ha fatto e ce lo risentiamo, Vincenzo Dai, un bacione a Anna, ai ragazzi, l'opportunio è risentircela Coordinati interporto di Parma, qui lo ti saluta, Vincenzo, avanti, cambio Positivo, Giuseppe, dai, tutto a posto, Mimmo, vedi che è lì del posto di Parma, che ti sicura, che doveva scendere Ciao Peppe, ti abbraccio, ci sentiamo più avanti, propaganda permettendo, direzione Forza, da parte mia, qua Avanti, Mimmo, punto del Cocosolo, salita Monteforte sul di Paria, da parte mia, Mimmo, cambio Grazie